I lavori al Parco Urbano sono ripresi per la realizzazione del secondo e terzo straccio. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi l'assessore Brunori, che aveva elencato i vari interventi in corso. L'area di cantiere, però, secondo Incomune, non registra progressi significativi e, come precisato dalla capogruppo Carla Luzzi, anche in questi ultimi mesi, in più occasioni, è stato possibile constatare la totale assenza di operai. Carla ha presentato un'interrogazione che fa seguito alla manifestazione di protesta dello scorso novembre, durante la quale avevate segnalato all'opinione pubblica ulteriori ritardi. Cosa ha riscontrato e quali sono le sue richieste? Allora, praticamente noi siamo stati qui a novembre perché i lavori tardano e, soprattutto, sono a fasi alterne e gli operai sono sempre pochissimi. Per cui, con quella manifestazione, volevamo proprio segnalare che questo parco tarda ad arrivare. Abbiamo sentito proprio l'esigenza, come gruppo in comune, di presentare questa interrogazione, anche perché la città tende ad attanto a questo parco. Questo parco è un noi. Sento che questo luogo appartiene alla città e alla città deve essere restituito. Nel frattempo sono stati fatti molti passi in avanti perché nel precedente mandato quest'area è passata al comune e l'area è destinata a parco, è stato fatto un concorso di idee e c'è stato un vincitore, c'è stato un progetto che, guardando le slide, è bellissimo. Ma poi ci sono stati ritardi che sono diventati incomprensibili perché nel momento del Covid questo era un luogo da vivere, da leggere, da passeggiare, da ammirare proprio che dava un respiro alla città. E poi una città di 60.000 abitanti senza un parco è una città a cui manca un tassello fondamentale. C'è anche preoccupazione per i maggiori costi da sostenere? Sì, la preoccupazione è tanta. Con la pandemia, la guerra e tutto quello che è accaduto sia a livello nazionale che internazionale, i costi sono triplicati, quadruplicati. Noi aspettiamo ancora la realizzazione del secondo e terzo lotto quando invece si poteva essere proiettati già la realizzazione dei successivi lotti e stralci. E ho sentito parlare in questi giorni di rifiuti, questi non sono rifiuti, queste sono macerie perché qui praticamente era un campo d'aviazione, erano state create delle casermette, erano state create dei camminamenti, era un luogo che serviva al demanio militare. Quindi questo è stato rilevato poi dai carotaggi, è stato rilevato dalla bonifica e questo punto è da mettere in evidenza. Come gruppo in comune ci mobiliteremo nella città, continueremo a vigilare, a custodire questo luogo perché questo luogo è un patrimonio della città a cui teniamo moltissimo. E quindi l'augurio immenso che faccio alla città di Fano è di avere il parco quanto prima. Ma purtroppo la realtà dei fatti è un'altra perché anche stamattina non vedo nessuno qui al lavoro. Quindi io mi auguro che diventi veramente una priorità per tutta l'amministrazione comunale ma per tutto il Consiglio comunale, questo è il mio augurio più grande.